Buongiorno, mi chiamo Andrea Pensotti, mi occupo di ricerca presso l'Università Campus Biomedico di Roma e presso il Laboratorio di Biologia Sistemica del professor Mariano Bizzari della Sapienza. Nello specifico l'ambito di ricerca su cui lavoriamo è quello della tumor reversion, ossia cerchiamo di studiare una domanda, quella se il tumore può essere reversibile e per reversibile intendiamo la trasformazione del fenotipo tumorale maligno in un fenotipo benigno, quindi significa che i geni mutati restano mutati, ma il comportamento della cellula cambia. Questa affermazione è sostanziata ormai da decenni di evidenze sperimentali e ora quello che cerchiamo di capire è se ci può essere un modo per traslare in clinica le evidenze che si sono già accumulate nel tempo. Nello specifico abbiamo studiato un biomarcatore particolare che si chiama TCTP che è un po' una sorta di piede dell'acceleratore schiacciato sul tumore. La TCTP che sta per Translationally Control Tumor Protein promuove la proliferazione tumorale, inibisce i processi di apoptosi, favorisce un processo di migrazione e di invasione del tumore verso altri tessuti. Abbiamo visto che somministrando estratti di microambiente embrionale che nell'embrione hanno il compito di differenziare le cellule, questi estratti riducono il quantitativo di TCTP e conseguentemente trasformano il fenotipo della cellula da maligno a benigno. La cellula ad esempio smette di migrare e di invadere altri tessuti. Adesso stiamo esplorando anche un'altra domanda perché c'è un altro, diciamo, piede sull'acceleratore del tumore che è la proteina HIF1α che viene secreta in grandi quantità e viene prodotta quando le cellule vanno in ipossia, quindi quando c'è poco ossigeno e in reazione a questa carenza di ossigeno si produce HIF1α. E che funzioni HIF1α? È una funzione anti-apoptotica come la TCTP, HIF1α favorisce l'angiogenesi, favorisce la proliferazione cellulare e la migrazione e l'invasione. Ecco che se diamo ossigeno alla cellula con un prodotto come ad esempio può essere Cell Food, forse, è lo studio in corso, potremmo aiutare a bloccare questi due pedali. Noi stiamo lavorando con due integratori che stiamo studiando clinicamente, uno si chiama a sincro level ed è un estratto di peptidi di uova di pesce e un altro è Cell Food che appunto dà ossigeno e ossigeno ai tessuti. Stiamo vedendo se le due cose insieme possono dare un beneficio.